Inter invece va a Lecce domani con diverse novità di formazione, innanzitutto cambia il portiere perché Sommer ieri aveva la febbre, non è stato convocato, non è neanche partito con il resto della squadra e quindi in porta ci sarà Udero al debutto in campionato, solo due partite ha giocato in Champions e in Coppa Italia a Lisbona col Benfica e in casa col Bologna, in Coppa Italia per la prima volta giocherà invece titolare in campionato cambiano due terzi della difesa con Bissek al posto di Pavard, De Vrij centrale e Carlos Augusto a sinistra al posto di Bastoni gioca Dunfris, giocano Frattesi e Aslani, Aslani al posto di Celanoglu e davanti la coppia potrebbe essere Sanchez Arnautovic una sorta di staffetta tra Arnautovic e Lautaro, le approvate tutte e due, prima Sanchez con Arnautovic e poi Sanchez con Lautaro beh insomma è un bel cambiare insomma, si dice il Milan ha cambiato tanto a Monza e avete visto il risultato l'Inter invece potrebbe dare la dimostrazione che se anche cambia ma hai dei principi di gioco solidi non cambia molto? Ma in questo momento la squadra è coesa, sinceramente la più grave perdita nell'Inter proprio per il periodo storico è quella di Celanoglu perché cambiare Aslani con Celanoglu sicuramente è qualcosa che si sentirà e si vedrà molto di più in campo per il resto io ho grande fiducia in Bissec, ho grande fiducia in Audero perché sicuramente... Hai cinque gol in due partite Audero lo sai? Cosa? Cinque gol in due partite, tra la tre è finita Lisbona e 2-1 in casa col Monza Sì ma non era per colpa propria Ma colpa, al di là del portiere Mario, al di là dell'episodio c'è come guidi la difesa il sincronismo che hai tu portiere con i difensori Ti porto una statistica, parliamo sempre dei numeri Cinque gol in due partite, l'Inter penso che ne abbia presi in tutto il campionato 12 gol Sì però sono anche circostanze alle volte che determinano dei risultati o dei gol presi in maniera superficiale Io confido sul suo cuore bianconero i suoi nove anni di Juventus tra settore giovanile e prima squadra Eizio quindi tu ci credi? Che vengano fuori Sì ma se anche l'Inter perdesse a Lecce, scusami Ma perché mi devi smontare? A parte il fatto che alle 12 e mezza devi battere il Frosinone Quindi se non batte il Frosinone c'è poco da metterti davanti alla televisione a gufare l'Inter con lecce Ero qui che stavo sognando No no ma io domando Poi magari tu mi rispondi Hai ragione E come se ci credo Fino alla fine Lasciami ancora quel minimo di illusione Ma io ti lascio tutte le illusioni che vuoi Ma figurati per carità del cielo Io ho ancora negli occhi comunque la partita dell'Inter Nella quale tenendo fuori Lautaro e qualche titolare ha fatto una gran fatica Però poi a un quarto d'ora dalla fine entra Lautaro e te la risolve Quindi per me tutti i cambi A Lisbona? Questa a Lisbona? No A Salerno stesso 4-0 con 4 gol di Lautaro nel secondo tempo Assolutamente Quindi onestamente questo è il momento di mettere in campo una squadra diversa A prescindere perché comunque vada la partita con l'Atletico non è per nulla scontata E devo dire che l'Andata ha detto sinceramente che l'Inter è una grande squadra Ma con l'1-0 o comunque in generale con i risultati che abbiamo ottenuto noi italiani in Europa Non c'è nessuna che può stare tranquilla Mario se finiva 3-0 non c'era niente da dire Sì è vero ma se finiva 3-0 purtroppo Però come hai detto avete dimostrato il potenziale Quello sì Perché le occasioni sono venute E io sono anche contentissimo che in una partita di campionato importantissima come quella contro il Lecce Ci sia spazio per dei giocatori che stanno giocando un po' meno Bissec ha fatto benissimo quando è sceso in campo nelle ultime partite Si è proposto tantissimo anche davanti e mi piace l'idea anche di sperimentare un attacco totalmente nuovo Perché Arnautovic non può essere quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e quindi Mi ricordava che Bissec ha fatto bene 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 perché rientra in uno degli episodi VAR quando la Juve ancora si giocava il campionato Bissec rientra in un chiarissimo episodio VAR a favore dell'Inter Genoa Inter DC Genoa Inter Ma sicuramente quello era fallo Ha messo tutti i valori del campionato che sono entrati Ha messo dalla Il VAR è stato il giocatore in più per l'Inter Di fronte all'evidenza c'è poco da dire Quello era un fallo da fischiare punto L'ha detto anche il commissario arbitri Sì sì ma non c'è bisogno Basta avere gli occhi E un minimo di obiettività No con Mario non vi dà soddisfazione Cioè io Cascate male Cascate male Mario è uno che se c'è Non si barrica Mario No 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 A me piace vincere con lealtà o perdere con lealtà L'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte Però nel momento in cui erano punto a punto Gli episodi sono andati tutti in una direzione Sì però io ho negli occhi ancora le giocate di Bissec Che da terzo di centrale di difesa Si ritrovava nell'area di rigore avversaria In maniera propositiva cercando di far gol Questo per me è l'evoluzione proprio del calcio di Inzaghi Perché vedere la crescita esponenziale Anche di calciatori che fino a ieri non sapevamo manco cosa facessero Però ecco questo è un altro discorso di formazione Secondo me Hai la rosa lunga Vai a giocare a Lecce Ti puoi permettere Poi devi andare a vincere Però ti puoi permettere Di andartela a giocare con altri giocatori Da allenatore vai e dici Ragazzi volete dimostrare che valete il posto da titolare in Serie A Si va a Lecce Si va a vincere Io come fa Inzaghi L'avrei provato Certo Dopo bisogna vedere cosa si va a fare in campo Quanti punti di vantaggio ha l'Inter Sì però in alcuni casi non è provare È una scelta obbligata ragazzi Io credo che se fosse stato a due punti Siamo a nove punti Se fosse stato a due punti Tutto questo riciclo non ci sarebbe stato A nove punti è assolutamente giusto farlo No però la premessa è che stai cambiando il portiere Perché il tuo portiere è titolare alla febbre Stai cambiando Cialanoglu Perché sicuramente in questo momento Il portiere non l'avrebbe cambiato Il portiere non l'avrebbe cambiato Sombra non l'avrebbe cambiato Però a tutti gli altri ci sta anche Frattesi quanto è speso Frattesi è fortissimo ragazzi Frattesi è fortissimo ragazzi Diceva vieni andiamo a Lecce Dimostrami che vari E gli altri Ma scusa si sta lamentando Mi dispiace per Pavardo Perché l'avevo messo in formazione Sombra si sta lamentando Che praticamente non gioca Non partecipa Non fa niente Che mettiate a Udero Che mettiate a Udero Mettiate un ragazzino È uguale I tiri non arrivano Ma in realtà come diceva Marco Mi sembra che il tuo sia un po' la volpeluva qua Caro Ezio Perché io percepisco del rosicamento In queste frattesi Questa sera ce l'hai No E gli dici Il vostro portiere è un spedatore non pagante E lui dice Ragazzi miei No Io dico anche che Marco da portiere Quale è stato Dice che il portiere è fondamentale Per dar stabilità al gioco difensivo Non sono parare Ma se hai un portiere forte Hai anche più paura a tirare da fuori Se c'è un ragazzino Tu dici Provo anche dal centrocampo Cioè Ma in tutti e due i casi Un ragazzino non ce l'hai No no Però dico Se hai Il discorso era proprio Per fare il paragone grosso Se tu hai il ragazzino E hai Una difesa non titolare Io dal centrocampo provo Se invece hai Dal centrocampo magari no Diciamo dai 25 metri Ecco Se hai un signor portiere Rischi Aspetto Non voglio perdere palla Proviamo ad arrivare più vicino Non me la sento Giro 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 Poi perché non tiri Però Audero è un signor portiere Anche perché Tutto il bene Somma Ritri Posso dire Allora Mentre ho steccato Sull'analisi Ma l'anno dopo Mi ha dato conferma di Onana Cioè nel senso che comunque Onana Quando si lamentava Del fatto che non giocasse Onana Giocava a Sandano Vici inizio campionato Che Andano Vici fosse bollito E che avesse L'Inter avesse dietro Un gran portiere Ha dimostrato L'anno scorso Se avessi fatto una grande stagione Che sia un gran portiere Di livello Come la scorsa stagione No Perché l'ha dimostrato Solo l'anno scorso Quindi l'Inter ha fatto È stata fortunata Brava Perché ha messo le condizioni Non ama di esprimersi Sicuramente Economicamente ha fatto Un capolavoro Un capolavoro economico È una plusvalenza Una plusvalenza Una plusvalenza enorme Hanno capito di venderlo lì Lì ha fatto benissimo Meglio di quest'anno Non fa Non l'avrebbe fatto come quest'anno Sommer invece è un portiere Di rendimento Che negli anni ha sempre fatto bene Sempre è stato un portiere Poco Magari invisibile Poco Appariscente Che lascia pochi fronzoli Alla situazione di gioco Ma un portiere di un rendimento eccezionale Cioè lui è veramente un ragazzo Quindi si possono fare le plusvalenze Anzi ne possiamo anche parlare bene Quelle regolari No bravo Regolari No bravo no Perché sono qui Io sono il primo caso Plusvalenza in Italia Io sono il primo caso Plusvalenza in Italia Fra Inter Sottolineo Ok E anche Milan I tre che sono No no mi ricordo I tre che sono partiti Quando è arrivato Esce a breve un libro Di un vostro collega Giornalista Marco Varaldi I tre che sono partiti Quando è arrivato Siment Plusvalenza regolari Tutto a posto No no assolutamente Ma quando ti stai indagando Alla magistratura? Beh bene È così che si fa Un caso Alla Juve Basta che tossisci Arriva già l'ambulanza Beh diciamo che avete fatto Un disastro Nella situazione di Ronaldo E avete dovuto Coprire di qua Di là bucchi di La situazione di Ronaldo Non lo stiamo a entrare Perché bisognerebbe Spiegare troppe cose Diciamo che Un anno fa di questi tempi Eravamo ampiamente Con i voti In questo discorso L'abbiamo già parlando Cinque secondi L'operazione Ronaldo È stata sfortunata Perché c'è stato il Covid Sicuramente Una squadra Con lo stadio di proprietà Con Ronaldo Che gioca tutte le partite La situazione economica Non sarebbe stata quella Comunque tornando all'Inter E a Inter-Lecce Anzi Lecce-Inter Ritorna a A bomba Sì Il campione d'Italia Per quanto mi riguarda Potete stare tranquilli L'Inter giocherà bene State tranquilli Anche a casa Agufando Non vi preoccupate Che anche questa Mario Se ci pensi Sarebbe una grande Dimostrazione di forza Perché si dice Un allenatore Sbaglia a cambiare Troppi giocatori Poi è ovvio che Se vinci cambiando Sei stato un genio Un fenomeno Se perdi cambiando Hai cambiato troppo Hai sbagliato tutto Come è successo Con Pioli a Monza Però se l'Inter Dovesse fare risultato Con Tre, quattro, cinque giocatori Dei non titolari Al netto del fatto Che gli allenatori dicano Per me sono tutti titolari Ma è evidente Che non possa essere così Beh insomma Significa Dimostra la forza del lavoro Dimostra la forza del lavoro Cioè se domani Aslani rispondesse presente Frattesi rispondesse presente Arnautovic e Sanchez Non facessero rimpiangere l'Ottario Magari Gli desse la possibilità Di tirare il fiato Visto che ha giocato tantissimo Cioè sarebbero Delle belle risposte Credo Ma sicuramente Ecco Come dicevo L'Inter Deve per forza di cose Dare Dare esempio di buon gioco Perché è quello che sta facendo All'inizio anno E l'unica cosa Che davvero mi preoccupa È Cialanoglu Perché ammetto Che è un calciatore Che in questo momento Detta ai tempi È un calciatore Che riesce a far giocare Bene tutti E Sia quando si propone Sia quando difende Quindi la fase difensiva Di Cialanoglu È diventata Davvero impressionante Non è semplice Da sostituire Con un calciatore come Aslani Che è un giovane Di prospettiva Però si capisce Che oggi non è ancora pronto Prima si parlava del momento No Del Frosinone Dopo una buona partenza Guarda il momento Del Lecce Il Lecce Nelle ultime partite Ha vinto in casa Con la Fiorentina Ma guarda tutte le altre Ma a prescindere Però Ha preso Da tutti A prescindere Una squadra Che vuole vincere Un campionato Non può aver paura Né del Lecce Né tantomeno Della Juve O del Milan O delle altre squadre È ovvio Che questo campionato Sta dicendo Che l'Inter Ha incontrato Nell'ultimo mese Fiorentina Roma Juventus Ha sempre vinto Ha sempre portato a casa Il bottino pieno E Onestamente Ci può anche stare Che contro un Lecce Magari Non riesci a fare La prestazione solita E che Pareggi Perdi o vinci Cioè Ma è una cosa Normale Quindi Io non la vivo Come Comunque Un passaggio Fondamentale Della stagione Dettato Dal Dal cambiamento Dei titolari Con alcune riserme Ma la vivo Come un momento Della stagione Nella quale Ha giocato Tani Però potrebbe essere Un momento particolare Della stagione Perché tu dimostri Che Giocando con le riserve Fai rifiatare I titolari Vai a giocare Poi a Madrid Vai a giocare Con l'Atletico Con i titolari E questo passaggio Alla fine dell'anno Alla fine del campionato Ti ha fatto poi Eventualmente vincere Sì però In parte L'hai già dimostrato No io volevo dire Una roba su Cerenoglu Cioè L'importante è che Non si pretenda Da Slani Il gioco di Cerenoglu La Juve È una delle poche squadre Di vertice Che non attua Diciamo determinati concetti Però l'Inter In evoluzione Perché dipende Dai giochi di posizione Che è una forma di allenamento Dove non esistono i ruoli Ma esistono fondamentalmente L'occupazione Di uno spazio Da parte di un giocatore Allora al di là del fatto Del ruolo Che in quel momento ha L'Inter In evoluzioni Perché Negli ultimi tempi L'avanzamento Dei difensori L'abbassamento Dei centrocampisti L'allargamento Dei braccetti Come esterni Ha evidenziato Questo Questo Quindi dire Ok Cerenoglu è un giocatore Fondamentale Fondamentale E lo ribadisco La terza volta Fondamentale Ma I principi di gioco Dell'Inter Oggi Forse Sono ancora più importanti Al di là che non faccia Un calcio propositivo Se un Marziano Arriva E guarda la classifica Ti dice L'Inter sta girando A 3.000 Forse il Napoli a 2.000 L'Inter a 3.000 Ma il Marziano Non ha visto Tutte le partite Che abbiamo visto Il Marziano Non sa che Le ultime 4 partite Ha fatto 2 punti Mica lo sa Il Marziano Arriva qui Gli metti di fronte La classifica E probabilmente Lo legge Secondo Dice Ma poi E allora è normale È uno Il Marziano Non arriva da Marte No ma io dico Io dico Ma guardate Che voi Cioè dite La Juve è seconda Ragazzi Ma la Juve è forte Voi dite È forte per il livello italiano Voi dite che la Juve È una squadra scarsa La Juve è forte Perché se io vi dico 7 titolari su 11 Te li dico veloci Scesni Danilo Bremer Locatelli Ma sono pochi Rabiot In un organico In un organico 25 e 7 sono niente Devi averne almeno 12-13 Fortissimi Sì Però se tu esami Guarda l'Inter Guarda l'Inter No infatti l'Inter è prima Ma la Juve E poi I competitor della Juve Sono Il Napoli Che ha fatto dei disastri Inarrabili Il Milan Che ha avuto 30 infortuni muscolari No? La Roma Che con Mourinho Giocava Col freno a mano Andando all'indietro Cioè la Juve È seconda Ma è normale Non è un espluadio allegro È una roba normale Con quei giocatori Che ha Perché poi in Italia Può vincere di fisico A spallate Molte partite La Juve Le ha vinte di fisico Ma non ha mai giocato bene a calcio Non ha mai fatto vedere Un calcio costruttivo Mai Mai Ma siamo d'accordo però Su una cosa Che al di là di come Questo obiettivo Si stia dipanando Male Perché comunque È oggettivo È oggettivo Che il gioco della Juve Non sia un bel gioco Ma siamo d'accordo Che ad Allegri Veniva chiesto Il quarto posto Cioè la qualità No il quarto posto Di entrare in Champions Oppure anche su questo Non siamo d'accordo E si chiami Allegri Per il terzo anno No ma oggi l'ha detto In conferenza Eh l'ha ribadito Fra poco lo sentiamo Eh certo Anzi non ha detto Che è l'obiettivo minimo Ha detto che quello È l'obiettivo aziendale L'obiettivo aziendale Lui quando è iniziata La stagione Gli hanno detto quello E lui sta Stà praticamente Centrando Quell'obiettivo lì Che è l'obiettivo Della stagione Basta Quando il giornalista Il giornalista Che gli ha fatto la domanda Ha parlato di Obiettivo minimo Lui si è anche inalberato Sì 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 Dicendo no Questo è l'obiettivo Non minimo Ha detto perché L'italiano è ben preciso Certo ah sì Quindi È probabile che Inizialmente Alla Juventus Visto tutto quello Che è successo I terremoti Che abbiamo visto Nel punto che andavano Veniva Dirigenza che andava Che veniva Gli sia stato Chiesto questo Però Per il blasone Per il nome Della Juventus Con tutto quello Che è La Juventus Che rappresenta Non puoi Solo Puntare al quarto Posto In un campionato Come diceva Paolo Che è di un Livello Sì dai Però se arrivi secondo E vinci la Coppa Italia Può essere Alla posto Che siamo tutti d'accordo Nel dire che l'Inter Ma vedi Giovanna secondo me Una società Dovrebbe Avere un progetto Che prescinde E non deve essere esclusivamente Ma rispondi alla domanda Se vince la Coppa Italia Io non lo confermerei Perché Secondo me In un progetto Di visione Tu con Allegri Non cresci Non migliori i giocatori Anche l'anno prossimo Potrai Ma per questo è stato preso Giuntoli Paolo Sì Per questo Però Giuntoli L'anno prossimo Ma non li migliora Atleticamente E tecnicamente Giuntoli Scegli dei profili Poi Chi li allena L'allenatore Giuntoli purtroppo Quest'estate L'anno prossimo Un pelo di più Ma può fare molto poco Il portafoglio è quello Non per niente A un contratto di 5 anni Per sviluppare un discorso Ma l'anno prossimo Se la Juve Non farà delle cessioni Straordinarie Quando lui proverà A prenderti Copminers E poi non so Forse cosa Se Rabiot non rinnova Un altro centrocampista Secondo me E forse Felipe Anderson Si accetta La proposta Che gli hanno fatto a zero Alla fine Basta Io in settimana Ho anche cercato di capire Se fosse vera la cosa Del portiere Di Di Gregorio Ma hanno detto Assolutamente no Perché non mettono soldi Anche 20 milioni Per un portiere Piuttosto Vanno con Scesni A scadenza Carne secchi Non si parla Ma sicura Carne secchi è ancora Fidabile Carne secchi è ancora peggio Vagliano 40 milioni Ma è il problema Della Juve Il portiere in questo momento Il problema Della Juve è il centrocampo Se prendessero Se prendessero Copmainers Se prendono Copmainers E Kiefer Turam Io sarei già contento Ma scusate Piusissero a prendere Quei due lì Però Può essere Allora Che la situazione Allegri Per questa Non volontà Ormai Della proprietà Di investire No Ma anzi Di tirare In barca La posizione Di Allegri Sia scomoda Perché tu Comunque Lui continua a ripetere Che ha un contratto Fino al 2025 Quindi magari Vorrebbero anche Il Tiago Motta Della situazione Ma forse non possono Perché la buona uscita La vuole come Se non tutta l'uscita Credo Paolo Sia difficile per quello No A lui non si muove Oppure no A lui non si muove No Ma neanche con meno Di quello che gli spetta Non credo Anche se ogni tanto Anche se ogni tanto Qualcuno Che lo conosce bene Qualche collega Scrive Che a fine stagione Potrebbe lasciare lui Ma io non ci credo Perché Spesso neanche Cioè Lo fa solo Se c'è qualche proposta Che lo convince davvero Perché se no Non lo fa E' uno che non ti regala niente Cioè per dire Non è il gattuso Della situazione Che dice Tipo al Milan No Qui non vado bene Lascio Lascia l'ingaggio Anche Conte Anche Verso Gielca Ma se va via Dalla Juventus Verso la famiglia Dovrebbe Io dico dovrebbe Usa il condizionale Poi lui non ce l'avrà Però Un minimo di Di riconoscenza Dovrebbe averla Perché l'hanno chiamato L'hanno richiamato Io chiedevo A Paolo Se questo fosse il quarto Dico Allegri si va via Dalla Juventus Per il quarto anno consecutivo Senza nessun trofeo Quale mercato Tu hai detto Se ha qualche richiesta Ma è non in Italia Non in Italia Ezio E all'estero Con il gioco di Allegri Dove lo vedi? In Inghilterra In Germania In Francia È per quello che rimane No Vedi che mi spuoti la testa No 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 Ma infatti Perché poi alla fine In questi anni Si è scritto tanto Lui quando era tornato Alla Juve Ti ricordi che Era stato cercato Da Real Madrid Ma così Così è stato scritto Come è stato scritto Quest'estate Della rabbia Però Io non lo so Queste cose Poi alla fine Sono vere Non lo sai Ti occupi di qualcosa No Nel senso che Non ho mai avuto Riscontri di queste richieste Cioè a volte No no Ma hai ragione Hai ragione Cioè una cosa Che non gli risulta Di prima mano Giusto Paolo Bravo esattamente Non hai la fonte diretta Su questo E anche per te Ho sentito dire Questo fa puzzare la cosa Di magari non vera Tanti mettono in giro Loro le voci Paolo È sempre sul pezzo Quindi qualcosina Non è che No no Ma sai Comunque Allegri Allegri è molto abile Però la mia curiosità È se arriva il secondo E vince la Coppa Italia Cosa fate? Che fai? Ma tanto resta In ogni caso Che fai la società? Resta in ogni caso Ciao 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 comunque Ciao Ciao Senti un gattino Grazie di tutto Ciao Vai in Arabia Vai in Arabia Ma per la dirigenza Vatti a fare la pensione Ma per la dirigenza Non è così Io voglio capire Lo diciamo noi Lo diciamo noi Ciao Ma infatti io voglio capire Se la dirigenza Ha già deciso Ma guarda che Ma ha già deciso La dirigenza Di tenerlo Ma andarlo via Aspetta veramente Giuntoli Giuntoli non è dell'idea Di tenerlo Nonostante vada in televisione E lo difenda E lo difenda a spada tratta E dice No Ma non è il nostro allenatore Ma con questo oddio Si muoverà mai Lui ha altre idee Ma anche perché tu Hai chiamato Giuntoli Che porta idee innovative No E quindi arriva già Da una squadra Che si era innovata Che adesso è precipitata Ma che si era molto innovata Anche grazie a Giuntoli No Perché tante cose Le aveva ispirate lui Lui vuole fare anche lui Il suo lavoro In questo momento Non lo sta facendo E allora lo può fare solo Si è accompagnato Da un altro allenatore Che è più vicino Alle sue idee E quindi sta convincendo La dirigenza Ad andare su qua Anche se non te lo dirà mai Pubblicamente Ma lui sta cercando Di convincere Il resto della dirigenza E alcuni dirigenti Lo stanno già seguendo Quello che lo deve seguire Però è Elcam Perché è quello Che tira fuori i soldi E' Elcam Questi momenti Ne ho passati Bisogna farli passare Sta a noi Rovesciare questo momento Nessuno ci può Regalare una vittoria Nessuno ci può essere d'aiuto Siamo solo noi Che bisogna domani Fare una partita Di ordine Di compattezza Di tecnica Di pazienza Di fisicità Sapendo che Una vittoria Magari Ci farebbe vedere le cose Sicuramente In un altro modo Come succede sempre E come è successo Negli anni In tutti gli anni Della carriera Quando ci sono stati Questi Questi momenti Ma non eravamo Dei fenomeni Un mese e mezzo fa Non siamo diventati De brocchi ora Questo è il calcio Va affrontato Il momento di difficoltà Va affrontato Perché va visto Come un'opportunità Di crescita E questo credo Che sia La cosa più importante Sapendo che domani Non finisce il campionato Bisogna fare Le altre 12 partite Dopo quella di domani Dove bisogna fare Dei punti Per garantirsi Questa Champions Per arrivare in Champions Servono minimo 70 punti Quindi Abbiamo ancora Tanti da fare E questo passaggio A vuoto Che c'è stato Sicuramente Credo che possa Essere utile Per la crescita Di questa squadra E poi ribadisce Appunto il concetto Che l'obiettivo No lo sentiamo In un altro passaggio Mi sono confusa io C'è proprio Un passaggio In cui Allegri Battibecca Col giornalista Sul discorso Bisognerebbe Comprargli Il disco Della Mango La cumbia Della Noia E Dalia Perché lui È la cumbia Della Noia Ho temuto Che ha un certo punto Io lo seguo Lo seguo da sempre Perché non mi perdo Una Una sua conferenza Non mi perdo Anche per motivi Professionali Perché visto che vengo qua Bisogna anche scriverne Sul bianco nero Eccetera Però francamente È sempre uguale È sempre monocorde Dice sempre Questa cosa Adesso Non eravamo Non eravamo Fenomeno La Brauc L'avrà ripetuto 20.000 volte E bisogna conquistare Sto quarto posto E l'avrà ripetuto 100.000 volte E il calcio È fatto così E vabbè Lo diciamo pure noi Che il calcio È fatto così Ma dimmi una cosa originale Una cosa diversa Ogni tanto Vedi che sei vecchio Anche nelle tue espressioni Vecchio Sì sulle 12 Ho detto Ma che a 12 Ho temuto Le 12 finali Di aviazzare Dice Dobbiamo fare una partita Ordinata Compatta Attente fisica Ma che roba è Cioè Però Paolo Tolto Murigno Chi è che ti fa Le interviste No 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 Perché io Sono d'accordo Sono d'accordo Sul fatto Scusa Non finisco Non parla mai Di calcio Allegri Non parla Di schemi Di modi Non parla mai Perché per lui Non è importante Sono d'accordo Sul fatto Che sia Un disco Che ormai Ascoltiamo È un disco rotto E poi soprattutto Io dico che quando La mia squadra Parte in casa Con l'Udinese Con tutto il rispetto Lui non può Venirmi a dire Però ho visto Una buona reazione Ho visto qualcuno Che ha reagito bene Perché Lo dico tutte le volte Mi sento preso in giro Ma Pioli ha detto Che dieci minuti Erano stati perfetti Sette minuti Nel derby Ognuno C'è le sue Dai Però se tu Da queste interviste Discorotto Analizzi frase Per frase Non gli puoi dare torto Perché ti dice Dobbiamo tornare in Champions Benissimo L'obiettivo di tutti Ma quelle sono cose scontate Ma se non tornasse in Champions Ma se non torna nemmeno in Champions Speramente Deve andarsi domani mattina Come fanno ad andarsi in Champions Che quest'anno Le passano addirittura Forse anche 5 Anche 5 È difficile non entrare Tra i primi 5 Però tu mi puoi dire Dice delle banalità Ma non gli puoi dare contro Dire Ha detto una stupidacce Dice inesattezze No Questo no Al limite Dice cose banali Ma non inesatte Che poi non abbia un grosso appeal Nella comunicazione Ma lo sapevamo Ma non parla di calcio Non parla di calcio Cioè se tu Non so Senti Daniele De Rossi Per esempio Ti parla di calcio Nell'intervista Posso dirti perché Non parla di calcio Secondo me Allegri Perché ritiene Che la platea Non sia Non sia quella giusta Per parlare di calcio No Lui parla di calcio Con i suoi giocatori Con il suo vice Con il giunto Ma non so se Parla di calcio Secondo me No Questa sarebbe presunzione Beh ma lui Di cosa deve parlare Io Così io cerco di intuire Quale sia Parla che È due anni Che è secondo In classifica L'anno scorso Perché ha fatto Un disastro Alla società Non è andato In Champions Adesso È ancora Secondo Se poi Chiesa Fa una partita E gioca ogni Ogni due mesi Se Vlaovic Non fa gol Se poi Locatelli Deve maturare Dal giorno Che è andato via Dal Milan Che cacchio Di colpa Ma non ti viene il dubbio Che Vlaovic A parte che Vlaovic Molti gol Li fa da palli In attive Ma non ti fa Da palli inattive O sfruttando Perché Spalletti Spalletti Ho sentito Il titolo di quella cosa Il pippe E quindi Allegra Un fenomeno Fai miracoli Ma caspita Ma scusa Ma non vedi Lo sviluppo di gioco Le azioni offensive Allora no Su Locatelli Però che abbiamo aspettato Locatelli Lui fa fatica In quella L'alchimia È funzionata Per l'europeo Non è così Per la nazionalità Eterna promessa Non è così Perché lui Quando era a Sassuolo Con un allenatore Che faceva calcio Aveva Invece faceva Delle mirabili Chi? Mamma mia Vedevo le parite Del Sassuolo Sembrava Procatelli Ah quindi Quindi Allora Lo voleva l'Arsenal Lo volevano Un sacco di squadre La Juve L'ha pagato 40 milioni Sono idioti Quelli della Juve Sono scarsi Quelli della Juve L'Arsenal vince le Premier L'Arsenal vince le Premier No Vuol dire che ogni volta Fa magari degli acquisti sbagliati Ma beh Questo c'è Questo c'è Certo E se un po' Le terze promesse Dalla regia Io sono dell'idea Marcello Io sono dell'idea Mi suggeriscono Dalla regia Non so quale regia Però Che all'europeo I signori Locatelli Chiese Bernardeschi A parte che chiese Ancora il nazionale Sempre il migliore Sono stati i migliori Tra i migliori L'europeo Vabbè è un mese Vanno alla Juve Vanno alla Juve E diventano giocatori Normali Vanno alla Juve Bernardeschi c'è ragione Chiellini e Bonucci Come sono stati Chiellini e Bonucci Agli europei Come sono stati Ci hanno 90 anni Scusate Siccome si parla Come sono stati Dillo Marcellino Come sono stati Eccezionali Sono stati bravi Sì I giocatori I giocatori sono delle pippe Allora È lui che non li sta valorizzare O sono i giocatori pippe Scusate Tu forse però Vedi Noi litighiamo Sai perché? Ma non litighiamo Non capisci No Non litighiamo Quando siamo qua Litighiamo Allora Sai perché Noi due litighiamo? Per il semplice Che tu non capisci Quello che io sto dicendo Non lo capisci Che non ti sentiamo Non capisci chi richiede Io ti sto dicendo Io ti sto dicendo Che Allegri Non mi piace Antico e vecchio C'ha 100.000 difetti Che io personalmente Lo toglierai domani mattina Però Secondo me Non ha neanche Tutti i torti Ugo Quando ti dice Che la squadra Non è un gran che Perché 6-7 giocatori forti Su 25 Ma non è 7 su 25 Ma giocano Ma i forti I 7 forti Giocano male Cioè Scusami Adesso stiamo Celebrando Perché è colpa Gli Allegri Stiamo celebrando Simone Inzaghi No? Simone Inzaghi Praticamente Un bel lavoro Tutti i giocatori Una bella squadra E lui Sì ma sono Ultra trentenni Che in molti casi Nessuno voleva Che ha fatto arrivare A scadenza Sono forti Persino a Cerni Sono forti E lui li fa giocare bene Sarà che conta Dall'allenatore Oppure no Ma loro sono forti Ma sono forti Ma vogliamo Paragonare Il centrocampo Dell'Inter Con quello Della Juve Ma vogliamo Paragonare Il centrocampo Dell'Inter Con quello Della Juve Scusa Il calcio È un gioco Di squadra Il calcio È un gioco Di squadra Se l'allenatore Non è buono Giocano male I calciatori Allora Time out Morina Beccalossi Vai Poi ritorniamo sul discorso E li sentiamo anche Allegri Vai Paolo C'è una via di mezzo Nel tuo discorso Quando dici Che la Juve Non ha Dei giocatori Pippe Poi però Hai parlato Di rendimento Dei giocatori La Juventus Ha avuto E ha Due giocatori Uno che è Vlaovic E l'altro che è Chiesa Che hanno E Chiesa ne ha ancora Seri problemi fisici Per un anno Vlaovic Si è trascinato La pubalgia E queste sono le due punte Di diamante I due attaccanti Della Juventus E non hanno reso Poi Il mercato della Juventus È stato Fatto su Chi? Su un giocatore Che UEA UEA Finora Non ha reso Ma UEA E al di sotto No Non il papà Non ha reso Adiamo sulle laterali Kostic Quest'anno Non punta l'uomo Non supera nessuna In velocità E quando crossa Centra l'avversario E detto questo Vedi Quanti giocatori Abbiamo Che dovrebbero Fare la differenza Ma in questo momento Non la fanno Sono mal allenati Ti faccio un altro esempio Come mai Molti giocatori Tipo Charles De Catteler Vanno all'Atalanta Da Gasperini E diventano Dei buoni giocatori Mi ascolti Stai guardando No mi ascolti Ma forse Perché lo scorso anno Era appena arrivato Aveva 21 anni E poi magari Perché psicologicamente E te è molto più difficile E vabbè Allora Se vi fa comodo E l'allenatore Non conta un cavolo Quando invece Così conta Ti faccio l'esempio Al contrario Quanti giocatori Invece via Dall'Atalanta Con Gasperini Diventano giocatori I normali Allora Beccalossi Fai rispondere Fai rispondere Beccalossi Su questo quesito Vai Ma dai No sul fatto che Lui dice No quanto L'allenatore No nel caso Di De Catteler Ma conta l'allenatore Se fa fatica A capire Facciamo un corso Di recupero Tu sei d'accordo Un chirico Che comunque C'è la colpa Di allenatore Beccalossi E' uno di calcio Mi dà ragione Un uomo di calcio Ma non può Sostenere una tesi inutile Secondo me Allora La Juve Non la ritengo La più forte Però Quindi ha dato ragione A chi Ha l'aspettativa Sono d'accordo Sul lavoro Di Allegri A me per esempio Colpisce Che ragiona troppo Da dirigente Abbiamo dei problemi Ma sei tu L'allenatore Che ha in mano Il gruppo Quindi se Dai una certa Impostazione Ci sono delle partite Oh spingiamo Andiamo aggressivi La devi dare L'impressione Che non riesci più A dare un'impronta A questa squadra Poi può essere Forte Meno forte Io l'ho vista lì Ultimamente Anche a San Siro Era un po' Che non vedevo Erano tutti dietro la palla Ma pazzesco Quella cosa diceva Pazzesco Che la Juve Aveva sempre abituato Che anche quando Non era fortissima Però c'aveva quel DNA L'acqua L'atteggiamento Sbalassino E invece Entrati in campo Un po' per puntare Allo zero Ma poi Scusa 20 secondi Giovanni No poi Tutti dietro Come ha detto lui Per lo zero a zero Va sotto Fa un cambio Non è che dice Toglie il diz E mette chiesa Non è che dice Per recuperare Mi metto a tre Con il diz E chiesa No no Ma cosa serve Per capire Che allegri Ma su questo siete d'accordo Tu e Tu e Chirico Ragazzi Però io voglio Andare in pubblicità Con un accordo Con un capire Ciò che dice uno E ciò che dice l'altro Da parte di entrambi Ma sai cosa farei con Chirico? Io metterei Come si usa adesso Sui social Metterei le scritte Quando parla Cioè Ma quando parli tu Quando parla Chirico Il sottotito Si chiamano sottotito Non le scritte Vabbè Sono antico Però Qui siete d'accordo Sul fatto che Allegri Anche nei cambi Sia Statico Ecco Non osi nulla Quasi difenda L'1-0 Contro lì Infatti Gli riprovero Che a San Siro È stato poco coraggioso E ha abituato La squadra A non essere coraggiosa Che quei giocatori Magari se gli spingi Un po' Cioè Guarda Tiago Motta Il Bologna Com'è coraggioso Com'è osa È andato a San Siro Tiago Motta Gli ha riso in faccia Ai suoi amici interisti Tiago Motta Non è che ha guardato In faccia Il fatto che lui Ha giocato nell'Inter Ha vinto il triplete Gli è fregato niente Gli ha fatti giocare E in campionato Gli ha fatto fare 2-2 in campionato E in Coppa Italia Gli ha eliminati E gli ha riso in faccia Perché è andato lì Spavaldo Non ha avuto paura No Ha riso in faccia Allegri Grandissimo Allora Allora Attenzione Perché grandissimo gol Grandissimo gol di Reteghi Rovesciata Volante al centro dell'area Grandissimo gol C'è da valutare La posizione di partenza Quando ha ricevuto Il pallone sul cross E noi la valutiamo Durante la pubblicità C'è un check No non mi pare Tutto regolare Tutto regolare Gero è in vantaggio Pubblicità Altro ottimo allenatore Che sta mettendo la sua mano Su una squadra Che sembrava Incanalata In una via buia Triste e senza uscita Allora L'amministratore delegato Dell'Inter Guardate un po' Le cose come sono cambiate Io ho fatto anni e anni Dove l'argomento D'apertura Era l'Inter Perché all'Inter Succedeva sempre Una cosa Adesso mi tocca Metterlo Al penultimo posto Con un Inzaghi Che neanche ha parlato Le cose comunque Vanno bene Ci sarà Prima vi parlo di campo Un turnover massiccio Perché Vuoi L'influenza di Sommer Vuoi che a Cerbi Ancora Così così Insomma A Lecce Emergenza Emergenza Carica un po' Che mi manca Esatto Questa emergenza Bravo Bravo Becca Un 3-5-2 In piena emergenza Con Bissec De Vrij Carlos Augusto A comporre la linea difensiva Quindi riposo a bastoni A Cerbi Che ancora non è al 100% Poi abbiamo Dunfris Frattesi Aslani Mkhitaryan Dunfris Mkhitaryan Frattesi Aslani Di Marco Ok E Sanchez Arnautovic Con però Una staffetta Con Lautaro Martinez Quindi non si sa Se parta con Sanchez Lautaro Sanchez Arnauto Così prende l'Inter Oh sempre parole belle Beh ma non è Ma non è Però Però alcuni giocatori Non ci sono proprio Sì Allora A Cerbi non ce l'hai Il portiere Il portiere Sommer non ce l'hai Quindi non hai Turam non ce l'hai Turam non ce l'hai Hai ragione Certo Poi chi è che non hai Beh allora Marella A Cerbi A Cerbi Allora A Cerbi Non hai Sommer E Turam Cioè proprio non ce li hai Non è che dici Posso fare diversamente È vero Crollo Inter No no Io non dico questo La fatalecce No però Con quella squadra Con quel gruppo In 5 minuti Li posso fare anche io Cioè hai comunque Dunfriss Fratesi Che ha dimostrato Di essere Voglio dire Certo Barella L'abbiamo visto In una partita fantastica Contro l'Atletico Madrid La rosa si sa Che è forte Quindi Profonda Devi dire Sì adesso C'è un po' di giocatori Cioè Lecce con tutto rispetto Che non ti regala niente Nessuno Poi specialmente Quando giochi con la prima In classifica E gli altri Sono dietro Quindi sono anche Nelle condizioni Psicologiche migliori Per far giocare Chi ha giocato anche meno Non ti preoccupi Pensa che abbiamo vinto Abbiamo vinto noi Sopra frasi fatte Becca Abbiamo vinto noi Tra zero Adesso che hai una squadra Che sono l'imbarazzo Della scelta Cioè Via uno Ce n'è un altro Abbiamo vinto noi Tra zero A Lecce Te la stavo Ma noi Non seguo le squadre minori Per voi è una passeggiata Sì Con quella faccia lì Sei convincento Te e l'altro gattino Là che là In collegamento Gattino nero Com'è l'intervince tranquillo Vedi eccolo Vai Eccolo Di base Una passeggiata Vediamo se anche Ugo Conti È dell'idea Insomma Dei suoi compari Ugo vince facile Potrebbero anche non andare Beh È un turnover Piuttosto massiccio A proposito Siccome c'è un ospite Obbligato C'è un ospite Che pensi Cioè tu cosa pensi Non faccio nomi Però Bazzisa Vedi tu sente neanche Quello che sta Mi era espresso Prima sull'Inter Ho detto che per me Non è un turnover Forzato Ma sono forzate Le scelte E ho detto anche Che secondo me È talmente forte Rodata E non ha mai dato Segnali di cedimento Che io credo Che anche a Lecce Come in tutte le partite Di questa stagione Sia favorita È inutile che tu fai L'uomo medievale Quando bruciavano le streghe Nel medioevo Perché chiedi opinioni Alla gente E poi ti tocchi I maroni Cioè dai No E lo fa E lo fa Non si può dire Ma guarda che non siamo più In fascia protesta Non è più in fascia protesta Ti giuro Ti giuro Il gatto nero sono io Bianco nero Il gatto bianco nero Ma no Ma un uomo Ma un uomo Che vive nel medioevo Quando bruciavano le streghe Tu sei il gatto nero Ma sai che il calcio È rimasto scaramantico Come è rimasto Per certi versi Ma veramente È misogino Insomma ci sono Cioè uno gli dice Che l'intera favorita Si tocca E quello c'è da toccarsi Ma io non andrei avanti Ha avuto il dolore Ha avuto il colpo Della strega No ma è una follia Allora la prossima volta Non farvi delle domande Certo sarebbe una cosa Cervorosa Allora ragazzi Ma qua l'hanno detto tutti Il dolore alla schiena Si tocca sotto Tutti l'hanno detto La dolore alla schiena Si tocca sotto Beh io Io intanto mi ricordo Che quando finisce la trasmissione Sulla sigla Non gli do la mano E lo saluto a distanza Dopo l'episodio Che ha raccontato Perché lui ha ancora Le abitudini Dell'accapatoio Quindi hai capito Allora ma sentiamo Che cosa ha detto Marotta Dai che io Sono curiosissima Inforco gli occhiali Non mi è Grazie Grazie Simona Fiori Perché grazie a te Potrò leggere Le dichiarazioni di Marotta Le conosco È però un conto Riassumerle Un conto leggerle Allora dai Nel dettaglio proprio Parola per parola Allora Giuseppe Marotta Beppe Marotta Il mancato arrivo di Lukaku Noi Turam Lo avremmo preso Comunque Se Lukaku Avesse accettato Ci saremmo trovati Con lui Lautaro e Turam Magari Non ci sarebbe stata La stessa chimica Che c'è oggi Tra Marcus e Lautaro Quindi tradotto volgarmente Serve anche fortuna Io non riesco No Ma oramai 23-30 Posso dirlo Non mi prende male Non riesco Oramai qua Ditelo voi Serve anche quello Dopo i gesti scaratici E poi va avanti Perché dice un'altra cosa carina Andiamo a vedere Così ve le faccio commentare In blocco E poi vado su Spalletti Che ha lanciato Veramente gli ormeggi Spalletone vai Non è responsabile In primis Anche se non sono stata Ancora capace Di capire quanto conta Il tecnico Nell'economia di una vittoria E qua potremmo aprire Quello che abbiamo appena chiuso È una componente importante Indispensabile Ma gran parte La fanno i calciatori O la società Non ho mai visto In campo Una squadra che vince in campo Che non ha una società Forte alle spalle Per mandervi un allenatore Significa che la squadra Gli gioca contro Inzaghi gestisce benissimo Lo spogliatoio a livello umano Tiene il massimo da tutti Sembra un compagno di squadra Delle volte Ma gode comunque Di grande rispetto Da parte dei giocatori È cresciuto tanto Tra l'altro c'è una cosa Di cui si parla poco Lui rispetto alla generazione Degli Spagletti e dei Conte Ha dieci anni di meno di esperienza Potrà fare ancora altra strada Tradotto L'allenatore conta il 30% Come dice Ugo Conti Conta la società E se sono bravi dirigenti Quindi si auto applaudi No ho tradotto male Ho tradotto male Ho tradotto male Ho detto tutto No perché poi In un altro passaggio È vero Dice che invece Ha capito Che bisognava Mandare via Spagletti Spagletti Perché l'ambiente Era morto Era depressa Eccetera Quindi allora Perché l'ha mandato via Se l'allenatore non conta Credo che il 30% Per tutti gli altri Su Conta Ha fatto l'eccezione Ce ne sono alcuni Che possono cambiare la squadra Non è Inzaghi Secondo me Tra questi Ma io leggo Esagero Cioè vado oltre Interpreto male Il marotta pensiero Gli da del ragazzo Che può crescere Con esperienza Che ha alle spalle Una società forte Grazie anche a questo Che ha fatto i risultati Non lo so Io ci ho letto No Io non vedo Secondo me lo stima Anzi dice che Insomma davanti a una carriera Luminosissima C'è C'è E' più giovane Però qua dice che L'allenatore Un anno giusto fa Non lo stimava Poi Sta primavera In primavera No No In primavera No Era traballante Del posto Infatti le critiche Che riportavamo noi E' chiaro che molto Venivano dall'interno E beh Becca Qua Sull'allenatore E' vero che lui dice Che Conte L'ha chiamato Per dare È un vincente Per dare una scossa No Ha mandato via Un allenatore bravo Spalletti Perché doveva vincere Quindi conta tanto Però in questo passaggio Lo dice Che l'allenatore Se non ha la società E i giocatori Può far poco E credo che si Ha nominato Le tre componenti Determinanti Per vincere Poi come tutte le cose Uno può nascere Cammin Facendo la stima Magari avevi dei dubbi Prima Ma questo Questo è il calcio Io ti posso assicurare Vivo l'ambiente intervista Tantissimi anni E il lavoro Che ha fatto Negli ultimi Tre quattro anni E' straordinario Perché Vedi anche L'ultimo giocatore Che lo incroci Ci parli Sembra che giochi Nell'Inter Da quindici anni Un ambiente così Non l'avevo mai Mai visto E' incredibile Adesso magari C'è da gestire Un po' Però Anche qui Parlavano Perché io vengo Anche dal periodo E ti ricordo Perché eravamo Spesso in onda Cioè l'Inter A un certo punto Ha detto Ma hanno ritirato La squadra Dal campionato Perché doveva fallire Non c'era più questo Non c'era più quell'altro E ha fatto quattro anni Con delle operazioni Della società E Paolo Che segue il mercato Sa che ha fatto Dei miracoli Perché Anche il primo anno Lukaku Era l'unico giocatore Incedibile Poi alla fine Ha dovuto darlo via Perché c'era un problemino Di credo 115 milioni di euro 115 hanno preso Credo Conferma Perché me l'hai detto te 15 dal jersey Perché me l'hai detto te Altrimenti di No no È ufficiale È ufficiale Però ecco E da lì E da lì hanno perso Un percorso Con il parametri zero Centrando gli obiettivi Anche dei giocatori Che Io per esempio Turamo Non mi aspettavo Che fosse un giocatore Così straordinario Nessuno Nessuno se lo aspettava No ma se lo dici te È una cosa Se lo dico io È diverso Ma quanti tifosi Nell'Inter Si sarebbero Aspettati Un'esplosione Così di questo giocatore Ma anche tanti addetti ai lavori Non se lo aspettavano Sì ma anche il percorso Io adesso mi ricordo Che fu un dramma Quando l'Inter Andò fuori dalla Champions League Però chi era lì Con Conte E tutti dicevano Appena la squadra Si mette in un certo Quindi Il campionato Lo porti a casa Quindi È stato fatto un percorso Importante Oltre che con la squadra Anche la credibilità Che si aveva fuori Avere 80.000 persone Tutte le domeniche Ma chi ha trasformato Davvero l'Inter Conte 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 è arrivato lì Gli ha dato una mentalità Che prima l'Inter Non aveva Ma è vero Che arriva Conte E vince lo scudetto Conte aiuta Con una squadra fortissima Sì ma lui ci ha messo Stavi vincendo Stavi vincendo Il campionato Marcello E arrivavo Di quello Bombardato Perché è andato fuori Da Champions League Quindi Non è stato un percorso Falsico Conte è stato accontentato Come del resto Si sa Che da quando è andato via Dalla Juve Che ha fatto il miracolo Del primo scudetto Lui vuole essere accontentato È un vincente E vuole la squadra Che ha in mente Tanto è vero Che quando Non ce l'aveva più Se ne è andato Sbattendo la porta Giovanna frena Che non sono più Quei tempi di frena No in Italia Ma anche Le altre squadre Adesso bisogna Tenere d'occhio Anche i bilanci Certo E devono essere Chi gestisce le società Devono essere proprio bravi Perché È facile Spendere i 50 I 60 I 70 E poi ti trovi Magari Di Marco Ti trovi Di Marco Che io l'ho visto La prima volta Con l'Under 20 E poi ci ha messo Cinque anni A arrivare all'Inter I vari passaggi Adesso hai un esterno Che è uno I più bravi In merito In merito A questo discorso Vorrei citare Una persona Che secondo me Merita di essere citato Perché prima Abbiamo parlato Di Tiago Motte È vero Il grande allenatore Sta facendo molto bene Ma non si parla Di Giovanni Sartori Che è il direttore sportivo Del Bologna Hai capito Che uno Che sa comprare Perché non parla molto Con i giornalisti Ma fa i fatti Esatto Bravo Non si sente mai Compra sempre E riesce a comprare Sempre con pochi soldi Con l'Atalanta È stato l'artefice Dell'Atalanta Che è andata In Champions League L'artefice Dell'Atalanta Il costruttore L'architetto È del Chievo Te lo ricordi? Anche il Chievo Sì certo Lui parte dal Chievo Sì Lui arriva l'Atalanta E fa benissimo E fa benissimo Lui va a Bologna E fa altrettanto bene Però devo dire Che a Bologna Ci ha messo anche tanto Tiago Motta Sì sì Sicuramente Perché è vero Che Sartori Lavora anche lui Con poco Non ce va a scoprire I giocatori Però Tiago Motta Che li fa giocare Io ieri sera Ho visto la partita Del Bologna Che è stata entusiasmante Ti diverti E non si divertono Gli avversari Cioè Capite La storia è anche Tiago Motta Lui salvò lo Spezia Che poi doveva Cioè lo voleva mandar via Ma aveva una clausola Scusa Corregimi se sbaglio Perché me le dici tu Quelle cose lì Quindi non rompe le scatole Doveva mandarlo via E non poteva Perché gli aveva messo La clausola Che se lo mandava via Doveva pagare una penale Da lì fece l'impresa Di salvare lo Spezia Ma allora io a questo punto Perché non te l'ho fatta prima La domanda Mea culpa Mea grandissima culpa A questo Tiago Motta Che tutti vogliono Poi lui ha detto anche Questa frase Nella vita contano i sentimenti Perché c'è la petizione Dei tifosi Che lo vorrebbero ancora lì Però non credo proprio Insomma che rimanga Ma no direi Al contrattisca denso Oltretutto È impensabile Ma al Milan Cioè i milanisti C'è qualcuno in Italia Che può sperare Che li vada E che qui rimanga Noi Juve milan in Italia E basta E basta Juve milan Non credo la Roma Ma a parte che io Spero Lo dico adesso Cioè io spero Che resti Daniele De Rossi Perché mi sta piacendo Tantissimo Veramente È in un mese Un mese Poco più Ha messo a posto Ma non guardo Tanti risultati Che contano Guardo la serenità Dell'ambiente Il recupero Di certi giocatori Lo stop Alle guerre Al palazzo Agli arbitri Alla società Cioè Ma Mourinho Diceva che la Roma Non aveva una rosa Per poter entrare In Champions League Cioè diceva Che senza Di Bala La Roma Non poteva giocare a calcio No scusa Questa digressione Secondo me Quindi milan Juve in Italia Però Tiago Motta Tanto mercato internazionale Ed è uno Un uomo di mondo Cioè comunque uno Che ha giocato a Parigi A Barcellona Eccetera eccetera Anche a me risulta che Piace No all'estero Piace tanto E lui abbia più la voglia Di provare un'esperienza Poi dopo nel calcio Di certo Non c'è mai niente Però Le ultime voci Era che lui Voleva fare Un'esperienza all'estero E fai presto Perché guardi Le società che ha giocato Parigi Se cambiano Eh sì Beh il Barcellona cambia Non so se lui E' un po' No Comunque il Barcellona cambia Parigi non si sa Parigi Però si sono ripresi Cioè Luis Enrique Sta facendo un bel lavoro Infatti io ho detto Parigi si cambia Non penso cambino adesso Però dico Sai che Parigi Ogni anno Ti fa delle sorprese Tanto Parigi Attenzione Perché noi adesso Non lo calcoliamo più tanto Il Paris Saint Germain Ma attenzione Al Paris Saint Germain In Champions League Ah sì sì Può essere l'anno buono Attenzione Non abbiamo mai parlato Dall'Italia Attenzione Attenzione Che abbiamo sempre detto Ehi Primo o poi Primo o poi Adesso che ci sarebbe Di snobbano Adesso li snobbano Attenzione Fanno il colpaccio Adesso che Può essere Che non ha L'ultimo anno Di Mbappé Prima Ma la vince Ritter La Cepi Eh guarda Ma allora Come così Dove è capirato Allora